grande parada di otto oggi 18 agosto 2021 qui nella rada di sorrento a primeggiare troneggia andromeda noi lo conosciamo come ulisse una gran bella imbarcazione dotata di helipad oggi si chiama andromeda ed appartiene al magnate russo yuri miln precedentemente era ulisse e apparteneva gram earth parato in nuova zelanda nel 2015 ha cambiato proprietà nel 2017